Sì, in questi giorni nelle aule del nostro Consiglio regionale stiamo sviluppando una riflessione attorno a questa proposta di legge della maggioranza, il progetto di legge numero 118, per sviluppare, promuovere, aiutare la cosiddetta fase 2 degli abruzzesi. Purtroppo tante critiche si riversano su questo progetto di legge, innanzitutto sulla modalità di erogazione di queste risorse, parliamo di 19 milioni di euro per 57 mila imprese che sono attualmente ferme, sostanzialmente parliamo di 300 euro per ogni partita IVA, è una briciola e per questa ragione noi ci stiamo battendo affinché la maggioranza possa aumentare le risorse a disposizione. E poi le modalità di erogazione, non è possibile procedere con bandi a sportello, cioè chi prima arriva prende e tutti gli altri restano indietro e non hanno nulla poi a disposizione. E poi chiediamo a questa maggioranza di approvare quanto prima il consuntivo della nostra regione che consente di liberare risorse, ci appelliamo soprattutto a Marsilio e all'assessore al bilancio, lo preghiamo di impegnarsi in maniera particolare sul bilancio e non sulle vicende della AS dell'Aquila.